salve a tutti ragazzi ben tornati sul mio canale io sono antonio e quest'oggi vi voglio consigliare diversi articoli che sono in offerta appunto in occasione dell'aliexpress 11 11 quindi saranno in offerta il giorno 11 del mese 11 quindi novembre tra pochi giorni saranno in offerta quindi perché non andare ad analizzare insieme sono oggetti che abbiamo già provato e testato diverse volte quindi acquistare a prezzo pieno magari non faceva piacere a tutti infatti vedremo come tutti gli oggetti che fino a poco tempo fa ci sembravano irrealizzabili adesso complice anche questo sconto come la tenda elettrica ricordate il mio vecchio tutorial dove montavo proprio una tenda elettrica quindi compatibile anche con gli assistenti vocali la potevo comandare con un sacco di dispositivi quest'oggi complice appunto questo sconto diventa accessibile a molti quindi iniziamo la carrellata di oggetti e vi ricordo che se vi sarò utile potete iscrivervi tranquillamente al canale questo mi renderà molto felice vediamo dietro di me scorrere un sacco di articoli che ci saranno in queste offerte veniamo nel dettaglio cosa abbiamo a disposizione io partirei dagli switch che è la cosa che abbiamo visto maggiormente sul canale quindi abbiamo a disposizione controllori per tapparelle switch per accendere le luci comunque attuatori smart plac pannelli smart da accendere le luci comandabili con gli assistenti vocali se non sapete come collegare vi continuerò a dire sempre guardate i video vecchi perché c'è veramente tanto tanto materiale a cui fare affidamento quindi possiamo ritrovarci sempre controllori per tapparelle e switch già belli recensiti col suo tutorial e come sapete ogni video ha dentro gli schemi c'è anche a disposizione la categoria delle luci sapete che io non sono proprio un amante delle luci smart di per sé perché ci vincolano a determinati movimenti per accenderle quindi sapete che se la spegniamo fisicamente con l'interruttore poi non si accenderanno mai più però noi abbiamo a disposizione veramente un sacco di luci mi piacciono un sacco i facsimili dei nano leaf veramente interessanti prima o poi ne avrò qualcuno da recensire ma abbiamo un sacco di opportunità e luci veramente interessanti quindi dategli un'occhiata ed eccoci già arrivati alla categoria curtain quindi controllori per tapparelle tende e tutto quello che vogliamo possiamo partire dai controllori appunto le placchette che dicevamo prima per passare a controllori per le tende appunto per tapparelli tende oppure il kit vero e proprio che avevo installato io che è il kit appunto per inserire la nostra tenda smart in un'abitazione il kit fornisce di tutto motori, staffe, wheel eccetera eccetera noi dobbiamo solo metterci la tenda e portare l'alimentazione fino a dove vogliamo riguardate il video perché è molto interessante infine una categoria che non ho ancora mai trattato sul canale ma è una categoria veramente ampia e interessante parliamo della categoria zigbee ci sono un sacco di oggetti quindi relai, interruttori, tutta roba zigbee che parla con il suo gateway quindi non ci va a intasare la linea wifi ma parla oggetto con gateway in maniera zigbee e poi un oggetto solo si collegherà alla nostra rete wifi in questo modo non avremo grossi diciamo flussi sul nostro wifi avremo solo un dispositivo collegato e infatti ci saranno un sacco di dispositivi presenti sullo store abbiamo anche un antifurto smart quindi zigbee che mi sembra molto interessante infatti non vi spoilerò nulla ma nei prossimi giorni anzi nelle prossime settimane potrebbe uscire un tutorial su quello quindi spero di esservi stato utile in queste spiegazioni magari non eravate a conoscenza di questa scontistica che c'è appunto in questa data 11.11 roba veramente interessante secondo me vi ricordo che tutti i link li troverete in descrizione anzi il link principale di aliexpress poi troverete anche tutti i link dei vari video perché andate a riguardarvi prima magari di effettuare l'acquisto il tutorial dell'oggetto in descrizione dei video come sempre ci saranno anche i link di amazon è vero costeranno di più ma vi arrivano anche in tempi rapidissimi come con solitudine di amazon quindi io vi ringrazio per la visualizzazione vi ricordo di iscrivervi anche alla mia pagina instagram o facebook per rimanere anche lì sempre aggiornati e ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao